Dov'è? Ma guarda che bello! Oh sì! I vestiti mi piacciono, devo dire. Perché appunto di verde mi piace molto. La lancia è nonostante. Non è stato l'ambeluio, però non è solo. Non è solo l'ambulance. Si avessi, per farvi. Non è solo l'ambulance. E' un'ambulance. Oh mio Dio! Sì, una partita bellissima, a chi te! One little shot! One shot! One, one shot! One shot! People to go! One shot! One shot! The fire большое Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.